Una delle nostre sentenze di ACPN del passato era stato il vanolismo, ci eravamo esaltati con Paolo Vanolio, con questo toro che finalmente ci faceva divertire, in realtà, spiace dirlo, ma è lo stesso toro di sempre. Noi abbiamo anche preparato una grafica per dare supporto a quelle che sono le nostre parole, questi sono gli ultimi dieci campionati del Torino all'undicesima giornata e come potete vedere la situazione è sempre la stessa. Si parte dai 12 punti al 14-15, 15 l'anno dopo, 16-16-17-11, l'unico anno in cui è cambiato un po' qualcosa, il 20-21 dove hai fatto soltanto 6 punti, poi 14-14-15-14. La media punti è sempre la stessa e se si va su questa linea il Torino chiuderà, come al solito, al decimo-undicesimo posto. Vuol dire che purtroppo il Torino sta per vivere la sua solita stagione mediocre, la sua solita stagione di nulla. Questa volta ha mille scusanti, una su tutte, gigantesca, è l'infortunio di Dovan Zapata, chiaramente il Torino ha perso il suo miglior giocatore ed è anche sfortunata perché dopo si fa male anche c'è Adams. In questo momento non c'è nulla nel Torino, è una squadra che mi sembra decisamente sfiduciata, anche i gol che prende, sono gol da squadra che mi sembra aver staccato un po' con la testa, vediamo sempre gli stessi eroi di Maripan, anche Coco si è perso un po', il gol che prende con la Roma, insomma il Torino perde con la Roma, abbiamo appena finito di parlare di una squadra che è disastrata con la Roma, che non ha anima, che non ha personalità, che non ha nessuno che la gestisce, che però riesce a battere il Torino. Mi dispiace perché per la prima volta si parla anche di cessione, Cairo ha smentito, però effettivamente per le conferme che abbiamo noi per la prima volta c'è la volontà da parte di qualche gruppo importante di andare a rilevare il Torino, io non so se augurare al Toro di cambiare o meno presidenza perché a me Cairo è anche simpatico, mi sembra una persona che ci tenga, però è molto brutto vedere che per l'ennesimo anno parliamo di una squadra che vive una situazione che è peggio del dramma. Io se fossi tifoso del Torino preferirei vivere una stagione in cui lotto per la salvezza che vive una stagione in cui non lotto per nulla. Mi è capitato quando lavoravo all'Udinese di vivere stagioni così, di vivere stagioni in cui tu a novembre sapevi che non andavi in Europa, non retrocedevi. E io, l'ignavità è molto peggio della sofferenza secondo me, cioè è meglio soffrire per poi salvarsi e quantomeno dai un senso a quella che è stata la stagione, che vivere un anno come se non fosse successo nulla. Ed è quello che sta succedendo in questo momento al Torino. Per motivi, come detto Mari, anche indipendenti alla volontà del suo allenatore e la proprietà, quello che volete, però i fatti dicono questo, che sono dieci anni per un motivo o per un altro che il Torino vive sempre la stessa stagione e questa sembra essere la solita stagione del Torino.